Sottopulino 3474 è iniziata un lungo inverno, la seconda stagione di Foglie Rosse, la saga ideata da Claudio Sciarrone che ha esordito ormai sul lontano numero 3336. Tra quella prima stagione identificata semplicemente come Foglie Rosse e questo lungo inverno è stato pubblicato sul 3441 un interludio in cui Sciarrone racconta che cosa era successo ai nuovi amici di Tipet Up venuti dello spazio. Prima però di affrontare un lungo inverno mi sembrava giusto raccontare qualcosa dal punto di vista scientifico sulla saga originale. La nuova proposta da autore completo di Claudio Sciarrone si andava ad inserire all'epoca all'interno di una più generale rivalutazione dei personaggi bambini della Disney, infatti in quel periodo c'era una riscrittura sia dei nipotini di Paperino, quel po' qua, sia dei nipotini di Topolino, Tipet Up. All'interno di questa riscrittura giocò un ruolo fondamentale proprio Foglie Rosse, visto che con Foglie Rosse in particolare venne introdotta la band rock dei due nipotini di Topolino. La storia però strizzava qualcosa di più di un semplice occhio agli appassionati di una serie televisiva come Stranger Things. Infatti, proprio come la serie televisiva ideata dai Duffer Brothers, anche Foglie Rosse può essere riassunta con un incontro narrativo tra Steven Spielberg e Stephen King. In pratica abbiamo una storia fantascientifica in cui Tipet Up e i loro amici, i componenti appunto della loro band, entrano in contatto con un alieno proveniente dal classico pianeta lontano lontano. Phil, o come poi si scoprirà nell'interludio Figli, è il componente di una razza di scienziati particolarmente longeva. Tra l'altro, gli abitanti del pianeta di Phil sono tutti, al tratto per come esce Roneli disegna non molto differenti dai Guardiani di Oa, coloro che danno in pratica il potere alle lanterne verdi nell'universo di C-Comics. La storia comunque vede questi scienziati dello spazio invasi da una razza di rettili, stiamo parlando degli Sgarots, che in qualche modo sono un'esaltazione all'ennesima potenza di qualcosa che in realtà gli esseri mani stanno facendo sulla Terra. Infatti, nel pianeta di Figli che gli Sgarots hanno conquistato, questi ultimi hanno consumato praticamente qualunque risorsa planetaria. Quindi hanno deciso di sfruttare le conoscenze scientifiche e tecnologiche degli abitanti dell'ultimo pianeta conquistato per raggiungere il loro prossimo obiettivo, la Terra. Per fare questo, gli Sgarots impongono agli scienziati che stanno schiavizzando di costruire un ponte quantistico che permetta di collegare in maniera quasi istantanea i due pianeti. Sulla questione del ponte quantistico vi rimando a un video dedicato a Super e Pippo che ho pubblicato sul canale. Andiamo invece a concentrarci dal punto di vista scientifico sull'elemento chimico su cui invece si basa questo ponte quantistico, il silicio. Il silicio, numero atomico 14, è l'elemento chimico che nella tavola periodica si trova subito sotto al carbonio. Condivide col carbonio tutta una serie di proprietà, tant'è vero che molti autori di fantascienza, ma in parte anche qualche scienziato, prende in serie a considerazione l'idea che potrebbe esistere nell'universo una qualche forma di vita, intelligente o meno chi lo sa, basata non sul carbonio come la vita sulla Terra, ma sul silicio. In linea teorica praticamente tutti gli elementi chimici sotto il carbonio sono capabili per poter essere base per forme di vita alternative a quella basata sul carbonio. Però in realtà dal punto di vista energetico il silicio è quella che subito dopo il carbonio presenta più vantaggi, anche se è comunque molto più complicato da avere una forma di vita basata sul silicio. Se andiamo a vedere l'abbondanza relativa degli elementi chimici sulla Terra, scopriamo poi che il silicio è il secondo elemento più abbondante sulla superficie del nostro pianeta, con il 27,7% viene subito dopo l'ossigeno. È molto probabile che i pianeti rocciosi contengano una percentuale non molto diversa da quella presente sulla Terra. Basti pensare che per esempio nell'ammasso della Vergine abbiamo una percentuale di silicio non molto diversa, in qualche modo confrontabile, compatibile con quella presente nel sistema solare. Il silicio che Phil porta con sé sulla Terra ha anche una caratteristica molto particolare, si attiva con il suono. Possiamo immaginare che una simile caratteristica non sia esattamente naturale del silicio, ma semplicemente dovuto al modo quantistico con cui gli scienziati del pianeta di Phil hanno trattato questo silicio, visto che dovrebbero utilizzarlo per costruire un ponte che avrebbe dovuto mettere in collegamento due punti distanti dell'universo. È interessante però osservare come negli anni scorsi si sono svolti alcune ricerche che hanno cercato di mettere in relazione alcune proprietà del silicio proprio con le vibrazioni. Ad esempio, andando un po' indietro nel tempo, nel 2009 un gruppo di ricerca del Coltec ha affermato di essere riuscito a costruire una micro batteria in grado di convertire la luce in vibrazioni e le vibrazioni in luce. E questa micro batteria, lo avrete già intuito, è proprio basata sul silicio. Nel 2017 invece, un altro gruppo di ricerca, questa volta nel Queensland in Australia, sembra sia riuscito a costruire un chip in grado di ricavare energia a partire dalle vibrazioni. E visto che sembra che questo stesso chip sia in grado di utilizzare gli algoritmi quantistici, beh, forse questo strumento potrebbe avvicinarsi e non poco proprio al silicio sviluppato da Phil e dai suoi amici scienziati. Un'altra curiosità molto interessante è legata alla struttura geometrica dei cristalli di silicio utilizzati per costruire il ponte quantistico. Questi pezzi del ponte hanno una forma geometrica esagonale più o meno regolare. Ed effettivamente la struttura cristallina del carbulo di silicio, un materiale ceramico composto proprio da carbonio e da silicio, è, guarda un po', esagonale. Questo composto poi ha una durezza molto elevata, intermedia tra il corindone e il diamante. Ed è quindi uno dei materiali più superduri a noi noti. Inoltre è molto raro trovarlo sulla Terra, però sembra sia particolarmente diffuso nello spazio. Per cui non è poi così incredibile pensare che sia proprio il carbulo di silicio il cristallo su cui Phil e i suoi amici hanno basato la costruzione del loro ponte quantistico. La storia poi si potrebbe tranquillamente prestare anche a un discorso relativo ai pianeti extrasolari, in particolare a quella zona che gli astronomi chiamano zona abitabile, cioè la fascia intorno a una data stella in cui si potrebbero venire a creare le condizioni affinché un pianeta potrebbe avere le condizioni giuste per ospitare la vita. Però questo è un discorso che potremmo eventualmente affrontare in un video futuro. Ciò che però vorrei sottolineare prima dei saluti finali è una battuta particolare che Phil dice nel corso della terza puntata. Ricercare, sperimentare è nella mia natura. E questa frase non solo identifica Phil, ma in qualche modo ci avvicina, ci fa capire un po' meglio persino il mondo di noi che lavoriamo con la scienza, ricercatori o divulgatori che siamo. E questa cosa è veramente molto preziosa e di ciò, forse ancora di più che di tutta la saga, ringrazio caldamente proprio Claudio Sciarrone. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E a questo punto, un caro saluto a tutti dallo Spazio. Forse era meglio se mi la devo prima di fare il video. Grazie.